Eeeh, cacchio, ho dormito proprio in una maniera bruttissima, cacchio, ma perché Eevee non vuole che vi vieta a dormire a casa sua? Oh mamma mia, non l'ho ancora capito, ah buongiorno ragazzi, buongiorno, eh, cosa vedo i muri cambiati? Cosa cacchio? Eevee? Eeeh, oh mio Dio, oh, oh, ah sì, effettivamente ci sta bene, oh ciao Sbreezer! Ciao Eevee, cosa hai fatto a casa? Ti piace, è completamente stupenda Sì, l'hai arredata tu? Sì, l'ho arredata io, vuoi fare un giro? Guarda come l'avevo arredata anche io Che vuol dire? Ah no, nulla, 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 dicevo, era proprio come l'avevo immaginata questa casa, mi doveva servire proprio questi mobili, sì, sì Certo, qui c'è la cucina, poi ecco, di qua c'è, ecco, la camera per... Ah, per cosa? Beh, per i bambini, per i bambini, ah, per sapere un figlio, certo, certo, con te, magari un giorno, potremmo, ecco, cosa, no niente, poi qua c'è il bagno, va bene, lo conosci già, qui c'è la mia stanza, guarda quanto è bella No, era molto meglio blu, è nel senso, è bello, ci sta questo colore verde, è veramente bello, sì, è bellissimo Sì, 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 andiamo, andiamo, c'è un'altra stanza che voglio farti vedere Ok Credo sia la migliore, ecco Sì Attento alle scale, che è un più stretto Oh mio Dio, non dirmi che qua hai fatto anche... Allora, qui c'è il garage La cassaforte e il garage, oh mio Dio, vero Come, come, scusa, come facevi a sapere della cassaforte? Beh, l'hai detto tu, cassaforte No, l'ho detto dopo, ho detto grande tu No, 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 l'hai detto, te lo dico io, l'hai detto... Vabbè, comunque, molto bella, effettivamente era meglio per come l'avevo fatto io E, vabbè, se senti che idea mia, vero, ha avuto nel fare la macchina lì in fondo Sì, 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 proprio, è come se tipo, non lo so, fosse... Ah, cioè, nel senso, brava, bravissima, bravissima veramente, Ivy Sì, lo so, se lo fai modestamente su fare le cose molto bene Sì, sì Comunque, mi sono dimenticata di farti vedere una cosa molto più importante Che cosa? Eh, 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 dove li trovo? Perché sono dentro la cassaforte di Ibi? Ibi! Grider! Cosa cacchio stai facendo? Oh, ciao, caro! Oh, caro, un paio di scatole! Stavo architettando un piano perfetto! Quale piano? Beh, ecco, sai, era da un po' di tempo che volevo dirti che... Beh, vorrei tantissimo fare una cucciolata con te! Una cucciolata! È possibile, assolutamente sì, faremo tantissimi figli! No, 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 no! Adesso sarai tutto mio! Sicuramente da qua dentro non potrai uscire in nessun modo, quindi... Ciao, Sbrizer! Cosa? 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 Oh, mio Dio! Hai vedi questo diverso davvero strano! Cacchio, non va bene, non va bene! Devo uscire in qualche modo! Devo uscire in qualche... Dolcetta! Oh, mio Dio! Dolcetta, devo stare calmo, ok? Cioè, io devo stare calmo! Allora, eh, eh, ok! Ragazzi, per rompere questo blocco dovete lasciare un sacco di like, così che aiutate Dolcetta a fare questa mossa e a liberarmi, ok? Ok, aiutatemi adesso, lasciate like! Ecco che arrivano, ecco che stanno arrivando! Arrivano! E... Oh! Brava! Ok, ok, ci siamo! Ok, scappiamo! Sì, sì, faccio piano, faccio piano! Cacchio, Dolcetta! Finalmente mi sei venuto a salvare veramente! Veramente! Io, io... Non so che cosa ha in testa Ivy, ma onestamente non mi sta piacendo per nulla al mondo il suo carattere! Perché come... Non è possibile che si metta a fare una cosa del genere, ti rendi conto? Cioè, mi ha proprio... Tipo ho messo all'interno di quella cacchio di... Di cassaforte! Ma non è che una roba da fare! Capisci cosa intendo? Cacchio, la tua casa che ricordi! Cosa sta facendo? Perché stai chiudendo le porte? Dolcetta! Oh, cacchio, perivi! Ah, sì! Oh, mamma mia! Ok, meno male! Sicura che non riesci a entrare da nessuna finestra, Dolcetta? Oh! Ah, sta scrivendo dei messaggi! Eh... Ora sei al sicuro? Sì, sono al sicuro, sono al sicuro! Ok! Eh... Cosa sta scrivendo ancora? Beh, aspettiamo, vediamo cosa ha di dire! Ma come ti vuoi entrare da queste finestre? Sono piccolissime! Non può entrare perché è tutto chiuso, meno male! È accaduto altre volte! È vero? Oh, cacchio, capisco! Comunque, Dolcetta, ti devo raccontare una cosa! Io... Te lo voglio dire però solamente a te, va bene! Non voglio dirlo a nessun altro! Cosa sta scrivendo? Ogni volta che c'è un ragazzo me lo ruba! È vero! Oh, capisco, comprendo! Eh, comunque è una cosa! Praticamente io... Non so se mi crederei mai, ma io arrivo da un altro universo! Eh... In realtà... Provengo da un futuro in cui... So già tutto quello che un po' c'è stato qua! Vero di questa casa! Nel fatto che... Perché mi stai ispezionando così a fondo? Ecco, io... Non so se ci crederei... Ok... Un altro universo! Adesso... Eh... Sì... Ecco, diciamo che... Io... Eh... Non... Cioè, non ti sembrerà strano, ma io con te ho avuto... Una famiglia! Ho avuto una famiglia che è durato a lungo in realtà! Eh... Ah... Sì... Sì, ecco è... Diciamo che mi è piaciuto un sacco... Abbiamo avuto un sacco di figli! Abbiamo avuto... Svriserino... Dolcina... E... Un altro che non ricordo, però che ha fatto una brutta fine purtroppo costruito! Ragazzi, scrivetelo qua sotto nei commenti! Vediamo se ve lo ricordate voi! Scrivetelo qua sotto nei commenti come si chiamava! Io non riesco a farmi venire nulla in mente! Comunque... Lascia stare! È... Ormai una roba di un altro universo! Io... Ci ho avuto le scatole di avere una famiglia! E adesso, insomma, sono felice che appunto la cosa sia finita! Comunque, raccontami di più di Ivi che magari posso... Ecco... Oh... Quindi, vuoi rimanere single? Eh... Per il momento, onestamente sì! Dolcetta, guarda! Sono passati 800 episodi! Comunque... Eh... Mi raccontami un attimo di Ivi che così almeno so bene come... Stanarla! Se magari si mette a fare la complicata, dato che tu sei di più di me... Oh... Ok... Dobbiamo salire qua sopra? Ok... Eccomi! Cosa... Cosa c'è qua? Uh... C'è qualcosa che mi devi raccontare! Ivi era carnivora! Davvero! Ma cosa mi dici? E com'è fatto? Ah... Cacchio, ma questa... Questa zona è proprio... Cioè... Da un sacco di tempo vivi qua, effettivamente, allora... Allora... Ivi è arrivata un sacco di tempo dopo rispetto a quando io sono arrivato all'interno di questo universo... Nei primi episodi della famiglia di Minecraft! Ecco... E quindi tu vivi da qua da un sacco di tempo! E quindi tu sei rimasta single per tutto questo tempo! Con delle pozioni l'ho fatta diventare onnivora! Wow! Che figata! Ok, capisco e comprendo allora come hai fatto! Allora ti sei... Basta! Entro da qui! Oh cacchio! È qua! È qua! Doncetta! No! No! Lo sapevo che... L'hai preso tu! Cos'è? Il sangue... Ma è il suo sangue! Il suo sangue gli fa paura il suo sangue! Va bene, va bene, va bene, va bene! Ok, ok, ok! Sei calma Ivi, ok? Mi ha salvato! Salvato? Da chi? Da me? Non è un salvataggio! Da te! Sì invece che è un salvataggio! Tu! Tu sei una pazza! Tu mi stai... Che cosa vuoi fare? Ma stai impazzendo! Non sto impazzendo! E invece sì, mi hai appena chiuso all'interno di una cavolo di... Non lo so, di... Di cassaforte! Cioè voglio dire... Ma che cosa dia... Dai, i numeri, scusa! Cioè adesso... Devi... Devi fermarti! Devi capire che io sono un umano debolino... Che ho bisogno di cure! E non di... Amoroso e fidanzato, onestamente! Cioè chi è che vuole più queste cose? Veramente! Cioè... Voi veramente vorreste fidanzarvi? Non ve lo consiglio vivamente! Sono stato fidanzato da due a... Con due anni con una ragazza! Questa qua si chiamava... Eh... Vabbè... Comunque... Eh... Insomma... Ve lo posso garantire... Non è stato per nulla semplice starci dietro! Eh... Meglio single... Che... Mal accompagnati! Ve lo... Ve lo consiglio vivamente! Assolutamente! Smettila di... Di rapirlo! Esatto! Vedi te lo dice anche la tua amica... Micona! Quindi smettila! Ma io vedo dei piani! No! I piani devi smett... Non i piani sono altri, ok? Perché? Non ci divertiamo? Tutte e tre da single! Eh? Che ne dici, Eevee? Dai! È più divertente! Diversarsi da single? Certo! Perché così possiamo unire più persone a noi! Capito? E quindi ci divertiremo, Eevee! Senza fidanzarci! Quindi dobbiamo trovare altri amici? Sì! Troveremo altri amici! Sicuramente ce ne saranno all'interno di questo universo! Sembra se non li porterò io dall'altro! Cioè nel senso... Non nulla! 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 Nulla, Eevee! Nel senso... Scusa! Guardo troppo... Sto guardando troppo... Avengers... Comunque... Io spero che... Ci divertiremo! Vieni qua, Eevee! Dai! Spero anch'io, allora! Sì, 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 tranquillo! Ah, ma sei entrata da questa finestra! Ma proprio sei... Già! Ma come si fa? Ma veramente? Comunque, allora... Eevee! Quindi tu non hai soldi per quella cavolo di cassaforte? Non è nulla lì dentro! Te l'ho detto! Eri tu il mio tesoro! Oh, cacchio! Mi ricordo una certa persona che inizia con la Iptron! Comunque, allora, adesso facciamo una cosa molto, molto bella, ok? Il nostro obiettivo, ragazze, è andare in città a farci degli amici! Così che possiamo effettivamente andare in giro e divertirci tutti quanti insieme! Che ne dite? Ok! Va bene! Va bene! Ottimo! Perfetto! Eevee! Eevee non anzardarti più a rapirmi! Grazie! Altrimenti... 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 Oh! Vedi questo coso! Oh! 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 Ecco, 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 perfetto! Molto bene, molto bene! Molto bene! Ah! Sì, docetta, gliel'abbiamo fatta! Ok, va bene, dai! Preparo le valice! Dove cacchio è andata, Eevee? Che ci sarebbe la sua macchina! Tu non hai macchina, vero, docetta? Ecco, ok, va bene! Dobbiamo andare con la tua macchina, allora! Quelle cacchio sei, Eevee! Ecco, come va bene! Ero! 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 Grazie a tutti.